Padromo di Pinovo, mercoledì 19 giugno, per la prova di qualifica, che era stata interrotta per la caduta di Sinfoniadesi e la conseguente fuga in libertà, sono dietro le ali della macchina, sole da Sernaglia, solista di esistere in Erechio, scoglio del prio e Socrate Funt, resta discosto Socrate Funt da Conway Goal e Aromatic Pine, scuderia Top Company, allenatore e guidatore Walter Lagorio, solista di esistere in Erechio, solista di esistere in Erechio, all'avanguardia, nascita da Gherapide e Banista, per i colori della scuderia Trotto di Vignano, allenatore e guidatore Mauro Baroncini, e scanalgato da Sernaglia e Slaide e Carlo Labin, scuderia Torino Nord, allenatore Fabio Menegatti, guida Santo Mollo, in terza posizione, all'intervallo sole da Sernaglia, Danzin Zamburtur e Comale di Re, scuderia Maga Alca, allenatore e guidatore Paolo Russi, si esce così dalla piegata, con Sereniere Chiu, avanti a solista di esistere in guidatore Lorenzo Calorio, mentre recupera Socrate Ponte, 33 il quarto conclusivo, devono fare 2,08,8 di tempo totale o anche meno, 25 il ragguaglio da affrontare. Sereniere Chiu in vantaggio, completato anche il secondo quarto, sempre all'avanguardia, Sereniere Chiu in seconda posizione solista desi, 32,9 il secondo quarto, Sereniere Chiu all'avanguardia, completamento del giro in 19 frazione, con Sereniere Chiu avanti a solista desi, in terza posizione sole da Sernaglia, quarto all'esterno Socrate Ponte, in quinta, scoglio del primo. Sposta solista desi al lato di Sereniere Chiu, 36 la terza posizione, Sereniere Chiu e solista desi che si avvantaggiano rispetto a sole da Sernaglia, sempre in terza posizione, completamento della piegata, ingresso in dirittura con Sereniere Chiu avanti a solista desi che sta attaccando, Sereniere Chiu, solista desi in lotta, insiste Mauro Baroncini con solista desi, ma il traguardo si avvicina, Sereniere Chiu precede solista desi, in terza posizione spinta Socrate Ponte, avanti a scoglio del primo e sole da Sernaglia, 29,7 il quarto conclusivo, 17,2 la media per Sereniere Chiu, probabilmente tutti qualificati, tranne Semponia desi caduta in fase di allineamento e non ripresentata, in qualifica.